Nel momento in cui intanto serve lavorare per dare messaggi positivi, io come vicepresidente del PPA italiano questa mattina ho partecipato a una riunione del Partito Popolare Europeo per spiegare quello che è successo nel nostro paese ho parlato con il presidente von der Leyen, ho parlato con il presidente Mezzola per dire loro che noi continuiamo a essere un punto di riferimento per una politica estera che punti sull'Europa sulle relazioni transatlantiche sulla Nato che è dalla parte dell'Occidente contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia così come è scritto nel programma congiunto del centrodestra.